Ricorsi elettorali, la parola Altar, a distanza di un anno dall'annullamento delle regionali oggi dinanzi alla giustizia amministrativa, una nuova udienza per discutere sul ricorso che chiede nuovamente l'annullamento della scorsa tornata elettorale. Intanto è stata rinviata al prossimo 27 giugno l'udienza sulla sospensione dell'ex governatore Michele Iorio. Isernia Brasiello lascia la Camera di Commercio, il neosindaco del capologo Pentro pronto a rassegnare le dimissioni dell'ente camerale in occasione della giornata dell'economia. Intanto domani a Venafro la prima riunione della Sise Civica che darà il via all'era Sorbo. Campobasso, inaugurato il mercato di Campagna Amica, l'iniziativa della Col di Retti Molise che avrà luogo ogni giovedì in piazza Vittorio Emanuele II, permetterà ai consumatori di acquistare i prodotti direttamente dagli agricoltori molisani. Campobasso, attesa per il nome del nuovo tecnico, il direttore sportivo Antonio Recchi, sta lavorando intensamente per iniziare il nuovo cammino del Rosso Blu. Intanto Giulio Di Palma ha dichiarato che non ci saranno problemi per l'iscrizione della squadra nel campionato di Lega Pro. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, in apertura parliamo di ricorsi elettorali perché questo è stato il giorno della giustizia amministrativa chiamata a pronunciarsi sull'annullamento delle elezioni regionali dello scorso febbraio per presunte irregolarità nella presentazione delle liste. L'udienza è terminata alle 13.30, i giudici hanno comunicato che i loro verdetti non saranno resi noti prima di domani. Inizia metà mattina l'udienza presso il Tribunale amministrativo regionale sul cui tavolo ci sono ben tre ricorsi per le scorse elezioni. Primo fra tutti quello inoltrato da due cittadini elettori di centrodestra che hanno chiesto un ritorno al voto per alcune presunte irregolarità amministrative nella fase pre-elettorale. Nel ricorso si evince che sarebbero stati riscontrati vizi insanabili nella presentazione delle liste dei grillini, mentre nelle liste del Partito Democratico, dei comunisti italiani dell'Italia dei Valori e di Sinistra Ecologia e Libertà mancherebbe invece l'autorizzazione del segretario nazionale a utilizzare i simboli del partito per la partecipazione alle votazioni. In prima fila ad assistere al dibattimento in aula c'è il presidente Paolo Di Laura Frattura, lo stesso che un anno fa era nel medesimo posto, in veste diverse e che ora invece spera che la giustizia amministrativa sia clemente. Tra esclusioni generali e vizi per i legali dei cittadini del centrodestra il risultato elettorale è stato comunque inficiato e ora non resta che attendere la decisione della giustizia amministrativa. Abbiamo impugnato gli esiti della competizione elettorale perché riteniamo ci siano stati dei vizi nella fase di ammissione delle liste a questa competizione, delle liste attinenti in particolar modo al Movimento 5 Stelle, quindi alla fase dell'autentica delle accettazioni delle candidature da parte dei candidati del Movimento 5 Stelle. Ci sono delle problematiche attinenti alla raccolta delle firme dei comunisti italiani, ci sono delle problematiche legate anche alla lista principale del Presidente Fattura, quindi al listino del Presidente Fattura. Ci sono infine delle problematiche legate all'autorizzazione sull'utilizzo dei simboli da parte dei partiti nazionali. Vediamo oggi, quindi il TAR deciderà su questi profili e stabilirà se sono intanto ammissibili, fondati e quindi stiamo a vedere cosa succede. Il dibattito in aula continua, in tardissima mattinata, è il legale del centro-sinistra Salvatore Di Pardo a sollevare il problema della notifica del ricorso ai consiglieri pentassellati Antonio Federico e Patrizia Manzo. Intanto la politica locale è in fibrillazione, anche se per attendere l'esito di questa prima tranche c'è ancora da attendere. Rinviata al prossimo 27 giugno l'udienza presso il Tribunale amministrativo regionale relativa al ricorso dell'ex Presidente Michele Iorio, circa la sua sospensione dal Consiglio regionale per la legge Liste Pulite. Sentiamo. In programma per oggi presso il Tribunale amministrativo regionale, oltre a tre ricorsi elettorali, c'era anche l'udienza relativa al ricorso presentato dall'ex governatore Michele Iorio cerca la propria sospensione dalla carica di consigliere regionale per la questione Liste Pulite, sospensione che temporaneamente ha consentito a Nico Eugenio Romagnolo di sedere provvisoriamente tra gli scranni di Palazzo Moffa. Tuttavia Iorio, con il ricorso 235, ha infatti chiesto la fine della sua sospensione a causa della condanna per abuso d'ufficio nel processo della BNCO, la società del figlio che l'ex Presidente allora in carica avrebbe favorito affidandogli alcune consulenze. L'udienza in questione è stata però rinviata al 27 giugno prossimo. Questo il commento del legale di Michele Iorio. Un problema tecnico, il professor Caravita ci hanno telefonato che è stato bloccato sull'autostrada e per una forma di correttezza professionale credo che lui voglia essere presente. Ho avvertito i colleghi dell'Avvocatura e i colleghi avversari e abbiamo chiesto il rinvio. Niente di più e niente di meno. Noi abbiamo sollevato l'incidente dei legittimi casto costituzionale della legge che è stata applicata. Quindi chiediamo al TAR di andare alla Corte Costituzionale. Abbiamo avuto già dei precedenti, il TAR Molise si è sempre qualificato perché la prima sendenza sulla parità delle donne è partita dal TAR Molise per noi. La sendenza che recentemente avete letto sui professori universitari è partita dal Molise e crediamo, ci auguriamo, speriamo che sia il TAR Molise a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale di una norma che lascia alquante perplesse sul piano giuridico. Poi la prima commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di legge che riguarda l'attivazione dello strumento europeo Progress Micro Finance. Mi premere rivolgere pubblicamente vivo apprezzamento ai dirigenti della regione Molise, in particolare a quelli del servizio competitività dei sistemi produttivi, ha dichiarato il consigliere regionale Nunzia Lattanzio. Con l'erogazione di microcrediti di importo inferiori a 25 mila euro potranno essere favorite nella nostra regione tutte le iniziative utili alla costituzione o sviluppo di piccole imprese. Disoccupati, giovani, donne e soggetti svantaggiati potranno candidarsi e beneficiare di Progress Micro Finance. Per il Tribunale amministrativo regionale del Molise il ricorso inoltrato dall'ex direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Giuseppe Gianrusso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Tar non è infatti competente per la materia contesa. Sentiamo. Niente di fatto per il ricorso inoltrato dall'architetto Giuseppe Gianrusso, ex direttore dell'Agenzia di Protezione Civile che aveva impugnato il provvedimento con il quale la Giunta regionale lo ha sospeso dall'incarico. Per il Tribunale amministrativo regionale del Molise il ricorso è infatti inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Tar non è infatti competente nella materia contesa, ovvero il ricorso è stato fatto al giudice amministrativo ma poiché la questione di tipo contrattuale sarebbe dovuto essere stato affidato a un giudice del lavoro. Infatti nei confronti dell'architetto sarebbe stata avviata la procedura di licenziamento per violazioni contrattuali e quindi il giudice naturale sarebbe quello del lavoro. L'architetto Campobassano difeso dagli avvocati Pino Ruta e Margherita Zezza dovrà attendere così il prossimo 11 luglio, data in cui è stata fissata l'udienza di sospensiva del ricorso. Dunque, con quanto disposto dal Tar Molise, decade anche l'impugnativa della nomina per l'incompatibilità avanzata nei confronti del dirigente Riccardo Tamburro, al quale il presidente della regione molise Frattura ha affidato temporaneamente la direzione dell'Agenzia di Protezione Civile. Gli stessi legali di Gianrusso si sarebbero appellati anche al recente Decreto Monti, relativo all'inconferibilità che impedirebbe di fatto le nomine dei posti dirigenziali per gli esponenti politici o ex politici. Ovviamente in disaccordo su questo punto l'avvocato Salvatore Di Pardo che ha curato gli interessi di Tamburro. Per il legale infatti il Decreto Monti non va applicato per coloro i quali erano già dirigenti prima di intraprendere l'attività politica. Dunque ora per Gianrusso non resta che attendere che la questione approdi alla magistratura ordinaria. Falsificavano documenti di circolazione di proprietà stipulando polizze assicurative facendo figurare come contraenti non i reali intestatari dei veicoli residenti nelle province di Napoli e Salerno, bensì delle associazioni no profit riconducibili agli indagati. In pratica una mega truffa portata alla luce dalla polizia stradale di Campobasso che dopo mesi di indagini ha individuato i vertici dell'associazione. Tra questi anche due persone residenti a Campobasso che proprio in città avevano trovato il territorio ideale per realizzare i propri illeciti profitti. Il presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis ha dichiarato la banca rotta per l'ente di Via Roma se infatti entro la fine dell'anno non saranno recepiti almeno 4 milioni di euro. L'esecutivo sarà costretto alle dimissioni. Intanto a insorgere sono state le minoranze ribadendo quanto anticipato tempo fa proprio dalla nostra emittente televisiva ovvero come su tale situazione abbia influito il costo dei sette dirigenti che vanta Palazzo Magno. Sentiamo i dettagli nel servizio. La provincia di Campobasso è ormai al verde. Come annunciato anche dal primo inquilino di Via Roma, Rosario De Matteis, entro la fine dell'anno non saranno reperiti almeno 4 milioni di euro per approvare il bilancio di previsione 2013, l'amministrazione sarà sciolta. Lo stesso De Matteis che ha ribadito come attualmente manchino i soldi per la viabilità e anche per la semplice manutenzione delle strade attribuendo la responsabilità al governo Letta che ha tagliato i fondi destinati all'ente da 25 a 6 milioni di euro ha chiesto aiuto alla regione Molise sollecitando anche un tavolo in prefettura. A rischio ci sarebbe per il prossimo anno scolastico addirittura il riscaldamento nelle aule delle scuole di competenza della provincia. Su questo tema sul quale più volte l'inchiesta di Molise TV ha fatto il punto anche le minoranze di Palazzo Magno hanno sollevato delle perplessità con una semplice domanda. Prima infatti di dichiarare bancarotta non era meglio fare più attenzione ai costi del Palazzo di Via Roma che all'attivo ha pur sette dirigenti super retribuiti. Proprio su questo aspetto messo in rilievo tempo fa da Molise TV si è soffermato il consigliere di minoranza Michela Fanelli che ha fatto sapere di aver presentato insieme a tutta l'opposizione una mozione sulla questione che sarà discussa al Consiglio in riunione il prossimo martedì. Ovviamente i costi sostenuti da Palazzo Magno sui quali riflettere oltre agli stipendi sarebbero tanti altri e certamente l'ente di Via Roma qualche entrata da disciplinare meglio la potrebbe anche rintracciare nelle associazioni sportive che operano per conto dell'ente così come nel parco automezzi gestito sempre per conto di Palazzo Magno. Ovviamente in tutto ciò non si vuole certo escludere la spesa per i dirigenti che nel 2011 sono costati al bilancio dell'ente per i relativi stipendi qualcosa come un milione di euro e gli stessi nonostante i tempi di ristrettezze economiche nel default di Palazzo Magno un peso certamente lo avranno avuto ma il ragionamento forse andrebbe allargato in un'ottica più ampia certamente necessaria per il risanamento delle casse della provincia di Campobasso. Dopo quasi un anno di indagini i carabinieri hanno rintracciato tutti i componenti del comando armato che il 2 novembre scorso a Campobasso nella gioielleria in via Ferrari. Sentiamo. Dopo quasi un anno di indagini i carabinieri del nucleo operativo Radio Mobile hanno rintracciato tutti i componenti del comando armato che il 2 novembre 2012 aveva fatto irruzione nella gioielleria Tangredi in via Ferrari a Campobasso portando via preziosi per un valore di circa 290 mila euro. Determinanti sono state le intercettazioni ambientali e telefoniche ma anche le lettere scritte dal carcere da Michela Ferraiolo la 29enne arrestata dagli uomini dell'arma la sera stessa della rapina e attualmente rinchiusa nel carcere femminile di Pozzuoli. A fare irruzione nel locale del centro cittadino furono i 5 tutti a volto scoperto e armati di pistola. Entrati a pochi minuti dalla chiusura minacciarono fisicamente le vittime immobilizzandole dietro il bancone mentre si impossessavano dei beni e di 2000 euro contanti. A una cliente capitata lì per caso hanno sottratto la collanina che aveva al collo. Quella sera la donna considerata al vertice del gruppo malavitoso fu arrestata grazie all'inseguimento del titolare della gioielleria che nei pressi della vicina via Garibaldi sparò in aria un colpo di pistola che la fece arretrare mentre i suoi complici si dileguarono a bordo di una Suzuki di colore grigio. Quel colpo messo a segno in una tranquilla serata invernale al centro cittadino scosse profondamente la cittadinanza non abituata a eventi simili. Da quel giorno gli inquirenti hanno lavorato per dare un nome a tutti gli altri rapinatori, oggi finiti in manette. Loro sono Francesco Romano classe 1978, Francesco del Piano di soli 28 anni, Vincenzo Montescuro nato il 1982, Anna Perna della stessa età e il basista Ciro Capitale del 1966, il più anziano della banda. Esprimo viva soddisfazione per lo sblocco della vicenda relativa alla cassa integrazione per gli operai Fiat. Grazie all'impegno delle forze sociali e della politica è stato possibile raggiungere una soluzione che restituisce tranquillità alle famiglie dei lavoratori, scongiurando inoltre un pericoloso riflesso sul sistema economico locale. Questa la dichiarazione del sindaco di Termoli Antonio Di Brino a seguito della decisione assunta dalla Commissione IMSS di approvare tutte le pratiche pregresse inerenti alla vicenda degli ammortizzatori sociali in deroga. Luigi Brasiello è pronto a lasciare la presidenza della Camera di Commercio di Isernia. Le dimissioni il neosindaco le rassegnerà domani in occasione della giornata dell'economia, mentre a Venafro, sempre domani ma in serata, inizierà l'era Sorbo. Il servizio di Arianna Gentile. Domani mattina Luigi Brasiello rassegnerà le proprie dimissioni da presidente della Camera di Commercio di Isernia. Lo farà alle ore 11 in occasione dell'undicesima giornata dell'economia. Il neosindaco saluterà chi lo ha affiancato negli ultimi otto anni di presidenza presso la sala convegni dell'ente camerale, al termine della presentazione del rapporto annuale sull'economia della provincia di Isernia, un evento nazionale promosso dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio. Mentre a Venafro, domani sera alle ore 19.30, inizierà l'era Sorbo con il primo Consiglio Comunale. Sei i punti all'ordine del giorno. Il neosindaco davanti ai suoi concittadini presterà da primo aggiuramento e poi comunicherà ufficialmente le deleghe assessorili assegnate ad Alfredo Ricci, che a Palazzo Cimorelli ricopre anche la carica di vicesindaco, a Maria Cifelli, a Marco Valvona, a Dario Ottaviano e ad Angela Maria Tommasone. Appare invece scontata l'assegnazione della Presidenza del Consiglio per via del criterio dei consiglieri più votati alla giovanissima, appena 23enne, Jessica Iannacone, residente a Cepagna e laureata in Economia e Commercio. Mentre la minoranza è sempre più decisa a chiedere l'azzeramento di ogni forma di indennità e la Costituzione in un fondo dove potranno confluire tutte le spettanze degli amministratori. L'opposizione, che fa capo a Mario Petracupa, è intenzionata a destinare questo fondo a scopi sociali a favore delle famiglie meno abbienti. Dunque, domani sera il debutto con la fascia tricolore di Antonio Sorbo, al quale tutti i venafrani potranno assistere attraverso un maxischermo allestito nella piazza principale della città. Ferie forzate per 44 dipendenti delle esattorie di Isernia, mentre cresce la preoccupazione per il proprio futuro occupazionale e gli stessi lavoratori sperano in soluzioni da parte della regione Molise. Vediamo. 44 dipendenti delle esattorie SPA di Isernia si trovano in fare forzate. Da circa tre mesi parte del personale impiegato presso la filiale di corso risorgimento che si occupava della riscossione dei tributi e delle imposte non percepirebbe più lo stipendio, una situazione che però preoccupa i dipendenti. Intanto ieri la sede è rimasta aperta, ma solo per informare l'utenza non per riscuotere i tributi. Comunque il personale spera che possa andare in porto in tempi brevi una proposta avanzata dall'assessore alle politiche sociali Michele Protarroia e dal sindaco Luigi Brasillo, vale a dire creare un'unica agenzia regionale che si occupi della riscossione dei tributi per conto dei comuni molisani. Un'ipotesi che sarà valutata nel corso di un tavolo tecnico fissato dalla regione Molise nell'eventuale riassorbimento di tutti i dipendenti. Intanto presso Palazzo Moffa si sono già svolti due riunioni tra istituzioni e rappresentanti dei lavoratori. Si attendono ancora notizie riguardo l'ipotesi di un concordato preventivo da parte della proprietà. SOS Credito è il comitato che unisce al suo interno industriali, artigiani, commercianti, agricoltori e cooperative con l'obiettivo di accompagnare gli imprenditori nel percorso economico e nel dialogo con gli istituti di credito. Numerose le organizzazioni sindacali aderenti al progetto tra cui Acem, Agrivoluzione, Casa Artigiani Molise, Associazioni Industriali del Molise e molte altre. Uno sforzo comune per migliorare la situazione delle piccole e medie imprese molisane e uscire dallo stallo economico. Inaugurato oggi il mercato di Campagna Amica organizzato dalla Col Diretti Molise, una preziosa occasione per i consumatori che ogni giovedì in piazza Vittorio Emanuele II potranno acquistare i prodotti interagendo direttamente con gli agricoltori molisani. Vediamo. Si terrà ogni giovedì in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso il mercato di Campagna Amica organizzato dalla Col Diretti Molise. Valorizzare e promuovere le produzioni agricole molisane favorendo la filiera corta sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa che permetterà ai consumatori di acquistare i prodotti e di confrontarsi direttamente con gli agricoltori. Come affermato dal presidente di Col Diretti Molise Vittorio Sallustio. Strumento che viene a favore da una parte delle aziende agricole e da un'altra parte con i consumatori con i quali noi abbiamo stabilito uno stretto contratto con essi basati sul presupposto della ritracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti che abbiamo, che le aziende portano direttamente sui banchi attivando quello che è il concetto di multifunzionalità aziendale caratterizzato dalla filiera corta. Numerosi i vantaggi del mercato di campagna mica, non solo economici grazie all'ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti ma anche ambientali. In Italia si legge in una nota della Col Diretti l'88% delle merci viaggia su strada ed è stato stimato che un pasto medio percorre più di 1900 chilometri su camion, nave o aeroplano prima di arrivare sulla tavola. Il che si traduce con un considerevole impatto ambientale oltre alla perdita di freschezza dei prodotti. Soddisfatti anche i consumatori, come precisato dal Presidente Vittorio Sallustio. I consumatori, dalle esperienze che abbiamo fatto da quando siamo partiti, sono state sempre eccelsi, siamo soddisfatti. Tant'è vero che comunque un punto di mercato ci è rimasto a Isernia per dare un po' di continuità che ci ha dato anche quelle che sono le indicazioni che bisogna continuare su questa strada. Dunque diventa importante l'interazione con i protagonisti del comparto dell'agroalimentare molisano al fine di conoscere e scegliere consapevolmente cosa far arrivare sulle nostre tavole. Con un'importante sentenza dello scorso 11 giugno della quinta sezione del Consiglio di Stato la FIM Molise è stata riconosciuta come braccio operativo della Regione Molise, deliberando come l'affidamento allo stesso ente del fondo anticrisi fosse del tutto legittimo. Uno dei legali a curare il ricorso che ha riconosciuto la FIM Molise come una società in house, l'avvocato del capoluogo Franco Mancini. Bene questa era la nostra ultima notizia, il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campagna 215. Previsioni del tempo per venerdì 14 giugno. Bella giornata di sole sulla Regione, qualche blando addensamento ad evoluzione diurna in prossimità della dorsale appenninica. Temperature in generale aumento sui valori pienamente gradevoli sui litorali adriatici, mari poco mossi o localmente mossi. Vediamo le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 12, massima 23 gradi. Isernia minima 12, massima 25. Termoli minima 19, massima 24 gradi. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura riuscirai a creare armonia e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campagna 215.